Capitolo 28 Or, nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, s'accostò, rotolò la pietra, e vi si sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore, e la sua veste bianca come neve, e per lo spavento che nebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea detto, venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli, Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e dalle grezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo, vi saluto. Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi, e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Lì mi vedranno. Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città, e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani, e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro a soldati, dicendo, Dite così, i suoi discepoli vennero di notte, e lo rubarono mentre dormivamo. E se mai questo viene all'orecchia del governatore, noi lo persuaderemo, e vi metteremo fuor di pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo, Ogni potestà, me stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, insegnando loro, d'osservar tutte quante le cose che vo comandate. Ed ecco, io son con voi, tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.